Ciao ragazzi da Barbara e benvenuti a mio canale Ketogenic! Mi dimentico perché ho scoperto di scrivere l'intro in inglese, ma questa è la ricetta del mio figlio Umberto's birthday cake, quindi non lo perdete perché era davvero delizioso! Per questa caccia bisognerò tre gnocchi, tre spoon di eritritol, 500 ml di crema pesante, 7 g di gelatina, l'ho usato nella caccia, 1 caccia di espresso e 1 spoon di caccia di instant coffee, e questo è davvero importante perché questo sarà un caccia di bavarese. E per dare un sapore forte, bisognerete tanto l'espresso e il caccia di instant coffee, ma se non avete l'espresso, il caccia di instant coffee è abbastanza forte, quindi è l'ingrediente del caccia più importante in questo caccia. Sono sicura che vedete che ho sempre l'espresso con me, perché lo amo! Quindi, mixare il caccia di instant coffee, invece di utilizzare l'acqua, in questo caccia di espresso. questo ci darà un sapore doppio di caccia, e è davvero incredibile, quindi ti consiglio molto di provare questo tipto. Step number 2 è il caccia di gelatina in acqua fredda, dove è dovuto restare circa 10 minuti, fino a che sia piaccia. Inoltre, possiamo aggiungere due terzo della crema pesante, insieme con l'espresso e l'espresso. con il caccia di gelatina in acqua fredda. E ora è ora per il disastro del giorno. Cosa può farlo quando dovresti riparare 3 caccia di gelatina con il caccia di eritritol, sull'epoca nero? Inoltre, inoltre di usare un forco, invece di andare con l'elettrico, ho avuto una bianca bianca in attrazione. Come potete vedere, una bianca bianca in attrazione. Ma questo non è un problema, è solo una bianca bianca, e io lo farò. Ma voglio farvi vedere come fare. Il caccia di gelatina devono diventare semplici e leggeri, quindi significa che sono perfettamente ripetati. E ora, con l'espresso dell'elettrico, possiamo aggiungere i crema pesante con il caccia. Ora è ora di ripartare il resto del nostro crema pesante. Questa è un'occasione speciale, quindi metterò un po' di erythritol anche qui nella crema di ripartare. Ma credo che non lo serve, perché il crema pesante è già abbastanza buona. Ma provoci e decidete per te stesso. Personalizzare la mia ricetta è una cosa che mi raccomando abbastanza. Non sono perfetta, perché sei perfetto per te stesso. Quindi provoci e preparare il caccia che ti piace. E ora ho preparato il mio molde, che è 16 cm per 16 cm. Io metterò un po' di batter, ma è totalmente non utile, quindi la prossima non farò, perché questo è come una speciale panna cotta, e non attenzione al molde. Ciò molto utile di fare è filtrare il mix prima di mettere in il molde. Ma ora ho filtrato e poi aggiungo la gelatina. La prossima volta preparare questa caccia, faccio l'opposizione, aggiungo la gelatina, e poi filtro tutto, quindi sicuro che non ci sono pezzi di gelatina. Non lo trovavamo, ma solo in caso, ho dovuto mixare molto bene, per essere sicuro, e come sempre, ho utilizzato l'elettrica. Final step, aggiungo la crema di crema, e aggiungo tutto molto bene. Perché questo è il mix, che entra in il molde, e che entra in il nostro refrigerator, per almeno 5 ore. Inoltre avremo il tempo di preparare la base della nostra caccia. Sì, sarà una caccia di tre strade. La prima che prepariamo ora, è una caccia di chocolate. poi, sull'opera, c'è questa caccia di caccia, e poi sull'opera, c'è una sorpresa. Per la base, ho usato 200 grammi di chocolate, 200 grammi di butter, e 4 uova. Prima di tutto, dovete smeltere, 200 grammi di butter non salta, insieme con 200 grammi di chocolate. Per fare questo, potete usare due tecniche, per la ricetta di caccia, e poi, potete anche usare la tecnica di Bain-Marie. Due di queste funzionano bene, e avrete un caccia perfetto. Ora che il chocolate e il butto sono perfettamente smelti, aggiungo un spoon di eritritol. Adesso non ho, ma questa volta, nella caccia, c'è anche una persona, che non è sulla dieta di ketogenica, ed è usata ad avere cose molto dolenti. Quindi, pensando sull'opera, mettere questo eritritol. Ma non è mandato, puoi scegliere se vuoi, o se non vuoi. Ora, probabilmente, dovete sapere, perché ho fatto 4 caccia. E' perché ho una ricetta extra, quindi continuate a guardare. E' anche ora, di aggiungere i 4 uova. Sono 4 uova, quindi 4 bianchi, e 4 caccia. Deve scegliere vigorosamente, quindi ti consiglio di utilizzare un mixer elettrico, sarà facile, e il risultato sarà perfetto. E qui, la ricetta extra. Abbiamo 4 caccia di chocolate mousse. 5 caccia di chocolate mousse. Se non si mangiavi pelle, e qui ci sono pelle pelle, puoi anche farli per 20 minuti, a 200 gradi celsius, che sono circa 400 gradi fahrenheit. e poi ci sono 4 caccia di brownie. 5 caccia di chocolate mousse. Quindi, non ti preoccupi di questa ricetta extra. E ogni volta che preparate questo caccia, preparate un po' più, così, potrai anche avere un perfetto dessert. E ora, prepariamo il nostro caccia di birthday. caccia di birthday cake. Il primo passo è di mettere un po' di butter in il molde, quindi sarà più facile di prendere il caccia, dopo la farla. Il mio caccia del molde è 24 cm per 24 cm. È un quadro. Ma se chiederti un po' più piccolo, avrai un caccia più alto. Questo è, penso, perfetto perché mettere un caccia più alto di questo. Ma ora, metteremo questo delizio di chocolate in l'oveno. Scusate! A 200 gradi celsius, che sono circa 400 gradi fahrenheit, per 20 minuti. E, inoltre, metteremo qualche crema pesante. Perché sarà la parte di questo caccia, ma non solo la parte di questo caccia. Sarà anche la parte di nostra mousse di chocolate, perché in questo modo la mousse sarà più leggera e ancora più delicata. e se non metteremo l'erythritol, ci darà qualche dolce a questo dessert. Quindi, mi consiglio molto di mettere qualche crema pesante. che sarà più leggera. You will also see, mixing it, that the color will be even lighter and the dessert will be an epic success. I promise you. I'm going to put it in the bowl. And after 20 minutes, here is our cake, ready and delicious. And while I'm waiting for it to cool it down, before taking out of the mold, I will show you my aromatic herbs. I love fresh ingredients. These are my favorite, rosemary, mint, basil and sage. I know it sounds strange, because I have so many plates, but I don't have any serving plate that is square and big enough for this cake. So I will use this tray from IKEA. They always do a square tray. This is from a few years ago, but I'm sure they have a new one now. And it's really useful and quite fun. And today is perfect, because it has coffee cups on it. So coffee cake and coffee cups. Now that the chocolate cake, the base is here, we can add also the coffee topping. As you can see, it's smaller. And from brown, we go to beige. So I will tell you that the surprise will be perfect for the color. It will be white. And you will be surprised also because it's super easy and it is a super keto topping. probably you already guessed is my beloved whipped cream. It's a life saver. When you are on a ketogenic diet, there is an high fat diet. So it's delicious. And here it's also perfect because the cake is imperfect. as you can see, it's not as beautiful as I wish it. And with this white heart on top, it will be nicer. I will put also the 23. That is the age of my son. And let's go on with the celebration. I really hope you liked today's recipe, today's cake, and you will consider subscribing to my channel. So we will meet here every Monday at 2 o'clock Italian time with another ketogenic video in English, but also on Wednesday at the same time with the same video in Spanish, and on Friday in Italian. Thank you all and see you next week. Let me show you what I got in store. So get ready, get ready, get ready. Baby, it's your birthday. Now you don't have to wait no more. So get ready, get ready, get ready. Just want you for myself all day. Let me show you what I got in store. So get ready, get ready, get ready. Baby, it's your birthday. Baby, it's your birthday, yeah.